Si infittisce il mistero sulla scomparsa a Senago di una giovane donna al settimo mese di gravidanza. Non è stato fatto abbastanza per cercarla e lo sfogo della sorella. Sentiamo Maria Teresa Palamà. Ogni ora che passa senza sue notizie cresce la prensione della famiglia. 29 anni, incinta al settimo mese, Giulia Tramontano è scomparsa domenica. Sabato sera avrebbe avuto una turbolenta discussione col compagno e padre del bambino, Alessandro Impagnatiello, 30 anni, barman nei locali della Movida di Milano. Vivevano insieme qui, al primo piano di questo palazzo a Senago, alle porte della città. La ragazza, proprio sabato, aveva scoperto che Alessandro aveva una relazione con un'altra donna. Anche lei sarebbe stata incinta, ma avrebbe già interrotto la gravidanza. Giulia, sconvolta, si era confidata con la mamma e la sorella, residenti in provincia di Napoli. Un ultimo messaggio, sono turbata, vado a dormire, poi più nulla. La denuncia ai carabinieri, fatta domenica pomeriggio da Impagnatiello, che ha detto di non averla più trovata a casa al rientro dal lavoro. Scomparsi, 500 euro in contanti e il passaporto, ma nient'altro. Ieri ancora gli appelli dell'Associazione Penelope e della sorella di Giulia, che ha indicato come segni di riconoscimento il pancione e un vistoso tatuaggio al braccio sinistro. Ai carabinieri sono arrivate segnalazioni in corso di verifica di persone che sostengono di averla vista sabato sera a una festa a Legnano, altro comune dell'Interland milanese. I vigili del fuoco l'hanno cercata fino a ieri sera con elicotteri e sommozzatori, ma questa mattina la prefettura di Milano ha ordinato di sospendere le ricerche. Se non abbiamo ancora trovato Giulia e perché non ho fatto abbastanza, vi chiedo di fare ancora uno sforzo. scrive in un ultimo post sui social questa mattina Chiara Tramontano, la sorella di Giulia.